I cavalli della seconda prova di qualifica riservata ai due anni partono, ci sono diverse rotture alla chiusura delle ali, una delle quali è quella di Vitesse Mabella che finisce a tabellù, dopo 200 metri in 15 e mezzo troviamo al comando Vernissage Griff, un sauro da Varenna e Dalia Griff con Gennaro Riccio, training di Antonio Chiaro, in seconda posizione si è sistemato uno dei tanti minopoli, andiamo a scorgere qual è, il numero 6 videale FAS, da ideale Luis e Led SF, 31 il quarto iniziale, per il momento parziali simili alla prima prova si ha faccia a largo Virus Caffa, una femmina da Napoleon Giupicas con Ciro De Cristofaro, in quarta posizione troviamo Papà Salvatore con Virtus Gall, 47 e mezzo i 600, a comandare l'elegante Sauro Vernissage Griff, da Varenna e Dalia Griff che completa gli 800 in 1 e 4, prosegue da vicino Ciro De Cristofaro con Virus Caffa, una cavallina un po' ardente, entra esposta a largo, Virtus Gall, 19 e 4 il chilometro, si riaccode in seconda posizione Virus Caffa, al comando sempre Vernissage Griff, di dentro guadagna posizioni, videale FAS, di fuori sbaglia Virtus Gall, 1 e 35 e tre quarti di miglio, a lunga deciso adesso il Varenna di Gennaro Riccio e prende chiaro margine agli avversari, retta d'arrivo, Vernissage Griff mantiene due lunghezze di vantaggio su videale FAS che si ingamba più che bene, va a concludere Vernissage su videale FAS poi a distanza il numero 8, la Pensiero Gar che aveva sbagliato al via e precede Vitesse Mabel che è stato autore di ottimo inseguimento ma era finito a tabellone. Il vincitore Vernissage Griff si è espresso in un totale 2 e 6 per cui la media si avvicinerà all'1.18.7.